buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fornite oggi parliamo della landa delle leggende come riscattare la schermata di caricamento vediamo insieme come completare questi incarichi ma prima di cominciare voglio salutare Ivan un caro amico che mi segue sui canali ma ora cominciamo appunto con il video di oggi allora dobbiamo entrare nella mappa creativa dedicata agli incarichi landa delle leggende quindi dobbiamo startare la mappa in modalità pubblica per poter completare gli incarichi che oltre alla schermata di caricamento ci daranno qualche punto esperienza per livellare questo pass battaglia che ormai tende alla fine di questa stagione allora per completare gli incarichi dobbiamo recuperare la moneta che si trova in questa parte della mappa passare la holofame andare su questa piattaforma arrivare esattamente qui dove ci sono queste piattaforme fluttuanti però cercare di saltare nel modo corretto perché qua la gravità è un po' particolare quindi scendiamo ritorniamo esattamente in questo punto qui saltiamo ok è abbastanza semplice una volta che capite come come funziona la gravità poi riuscirete a trovare le misure corrette e qua ci giriamo saliamo sopra saliamo sopra ci giriamo saltiamo su 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 ok ci giriamo su ancora questi tre e ci giriamo per l'ultima volta e qua sopra abbiamo la nostra moneta che c'è un'altra moneta che c'è un'altra moneta che c'è anche qualche punto esperienza e abbiamo completato il primo incarico il secondo ve lo faccio vedere tra un secondo qui se ballate farete un po' di punti esperienza non sono tantissimi ma se non avete più voglia di giocare vi mettete qua e fate ballare il vostro personaggio e vedete che qualche punto esperienza ve lo dà gli altri due incarichi da completare sono qui dopo aver farmato un po' di monete e acquistare un oggetto e vi farà completare l'incarico e poi fare le due modalità spara ai bersagli e costruisci delle coperture ragazzi per il video di oggi è tutto noi ci vediamo al prossimo ciao